Mi presento, prima non mi ero presentato, sono Matteo Lenner di Ispra e siamo il coordinatore del progetto che è appena partito e la giornata di oggi è una giornata di presentazione del progetto. Serve un po' a farci conoscere, a conoscere anche quali potenziali sinergie si possono instaurare durante il progetto. Il progetto che, come ha detto benissimo, è un progetto che centra sulla comunicazione della rete Natura 2000 e sulla valorizzazione della rete Natura 2000. Noi abbiamo puntato sulla bicicletta come mezzo di comunicazione e come mezzo proprio di raggiungimento reale della popolazione e del territorio. L'idea è quindi quella di collegare in cento tappe i siti di importanza, cioè la rete, cento siti della rete Natura 2000. Tutto verrà descritto per bene adesso proseguendo. La giornata quindi prevede una breve presentazione dei partner e delle azioni dei partner del progetto, quindi i ruoli che i partner avranno un po' nel progetto. E poi dopo avremo la possibilità di sentire interventi diversi sulla rete Natura 2000, su esperienze di life che noi consideriamo importanti e che possono essere utilizzate nel corso dello svolgimento del nostro progetto. Quindi i primi interventi saranno i nostri del progetto e poi dopo avremo a seguire dal Ministero dell'Ambiente, sempre Ispra con un altro progetto ASAP, la Regione Lazio che ci presenterà un progetto al quale ha partecipato, che ha promosso la cittadinanza attiva e quindi assolutamente interessante anche questo dal nostro punto di vista come esperienza da condividere. Poi abbiamo trovato tra gli iscritti, ci ha fatto estremamente piacere, Domenico D'Alelio della stazione Antondonna, che insieme ad altri hanno lavorato su un progetto, hanno realizzato loro già lo scorso anno e in altre esperienze che poi ci racconteranno, delle tappe ciclistiche legate proprio alla conoscenza della biodiversità e la diffusione delle conoscenze sulla biodiversità. E quindi questo è un altro progetto che ci interessa assolutamente conoscere per poter far tesoro delle loro esperienze. Quindi questa è la giornata di oggi, c'è in programma un'uscita in bicicletta verso Villa Borghese, che è uno dei siti di interesse guanzi, adesso è diventato zona di una ZSC, e quindi è qui a pochi passi e sarebbe carino andarla a incontrare. Il tempo non sembra favorevole, quindi adesso vedremo se riusciremo ad andare o meno alla fine dei lavori, se riusciremo a fare questo percorso. Ho visto un po' di biciclette, qualcuno è venuto in bicicletta, c'è la possibilità di prendere anche le biciclette al volo, chi è iscritto le bici o bike e niente, ci proveremo.